Vedrete molti cantieri, ma cantieri nuovi, poco invasivi sul territorio, qualche foro, cavi che entrano nelle tubazioni, cavi che si collegano, che non si vedano, ma tanto investimento per il futuro. Giovani, aziende, imprese, territorio servito. Qualcuno stima che un buon territorio servito, attraverso la banda larga, cresca di PIL dall'1 al 1,5%. Noi siamo su questa strada. Grazie a tutti.